Sabato mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica del Madagascar. Durante i colloqui dove ero espresso compiacimento per le buone relazioni esistenti della Santa Sede in Madagascar ci si è soffermati sull'attuale fase di ripresa del Paese, sottolineando il positivo apporto della Chiesa Cattolica nel cammino verso la riconciliazione nazionale e la stabilità politica, come pure il suo contributo nei settori dell'educazione e della sanità. Sono stati poi affrontati temi di comune interesse, quali per la lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Non si è mancato infine di fare un accenno alla situazione internazionale e ai conflitti che interessano alcune regioni del mondo.